Ciao ragazzi Grazie per aver ritrovato in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio presentarvi un unboxing di un pacco che mi è arrivato direttamente dalla Sicilia e devo ringraziare il mio amico Francesco Di Fiore e adesso andiamo a scoprire subito che cos'è, quindi coltellino, pacchettino, andiamo subito, il volo sono appena rientrato dal lavoro e mi sono trovato questo collo o pacco preferite sul tavolo. Eccolo qua, e andiamo subito a vedere di che cosa si tratta, perché il mio amico Francesco Di Fiore mi ha detto, Fabrizio ho preparato qualcosa, vorrei condividerlo con te, partelo e vediamo di cosa si tratta. Allora, guardate che è un ballo perfetto. Signore e signori vi presento Guardate il ballo che è fatto bene, Francesco ha preso cura di questo pacco che mi ha mandato. Allora, si tratta di un display LED da adattare ragazzi al T300 che ha interamente fatto a mano il nostro caro Francesco Di Fiore, che ringrazio veramente tantissimo, non so se riuscite ad apprezzare, anche ha fatto in plexiglass con la simile fibra di carbonio, l'adattatore da mettere proprio al volante in modo tale che si possa vedere. E questo qua è un classico di It Yourself, cioè un il fai da te, ed è realizzato veramente molto bene, è quello che mi fa veramente piacere, che Francesco ha pensato a me. Lo ringrazio veramente tantissimo, sarà per me l'onore e l'occasione ovviamente di poterlo testare e installare, mi ha spiegato che è molto facile, in più mi ha mandato anche via mail il software proprio per la gestione di questi display. Francesco ti ringrazio veramente tantissimo per questo regalo, se siete interessati a sapere come ha fatto, quanto ha speso, non esitate a lasciare un commento, magari vi metto in contatto direttamente con Francesco e vi potrà spiegare, magari dare gli schemi e quello che è. Niente, cosa da aggiungere? Che si collegano, si collega via USB, doppio USB e si può configurare praticamente come si vuole. Non esiterò a fare un video in merito a questo fantastico gadget che mi ha offerto Francesco. Io, come al solito, e niente, se il video vi è piaciuto ragazzi questo unboxing, non esitate a lasciare un commento qui sotto, a lasciarmi un like, iscrivetevi al canale, tanto è gratuito. E noi ci vediamo prestissimo, anzi questa sera per il campionato SPS Racing siamo al Bahrain Formula 1 2019, siamo con R Factor 2, insieme a me Luigi e Luca. Io quindi ragazzi vi saluto e ringrazio tantissimo ancora Francesco. Ciao! Ciao!